ciao ragazzi ed eccoci qui ritornai su city of tomorrow ovvero knockout city questo gioco molto famoso già vi ho portato il primo video praticamente in italiano sarebbe palla avvelenata quindi ci siamo andiamo ho sbloccato altre e nuove modalità quindi direi subito di andare nella nostra lobby ancora le partite professionistiche cioè in lega non lo sbloccate perché non è che ci gioco tanto a questo gioco devo dirvi la verità dopo un po annoia però a noi va bene lo stesso intanto le sponsorizzazioni ragazzi non mi capiranno mai di farle e quindi andiamo va allora sempre modalità strada ecco ho sbloccato a ma sono cambiate 3 versus 3 super poteri arrafa poteri iniziamo a fare queste robe mistiche e poi c'è pure 2 versus 2 versus 2 cosa due contro due contro due ma cosa non ho capito però va bene lo stesso mio personaggio è bello che pippante quindi ci siamo si inizia o non si inizia tanto la chat locale non la usano quasi mai peccato perfetto o palla boomerang bella palla tanto se non sbaglio anche nel video precedente abbiamo giocato con la palla boomerang non mi ricordo comunque 3 versus 3 round che cazzo oh i suoi poteri carica imbalzo muta palla no no carica colpo di placcaggio doppio salto doppio salto no vista raggi x voglio no volevo la vista raggi x quella era utile devo dirvi la verità doppio salto vabbè dai ci sta perché no le palle dove le trovo le palle guarda me l'ha fregata una quando volete tirarla magari boom no la presa mortacci tua o no o no come tutti boom ma le bloccano sti stronzi vaffanculo oh chi dà sta palla ah beccate ah dio mio che è successo ah era il mio compagno di squadra non sapevo i miei che è sto casino che è sto casino dove stanno a vincere comunque ah no noi stiamo a vincere siamo a squadra blu bene meglio così sfondiamo dove stanno ma corrono troppo dammi sta palla dammi sta palla dammi sta palla dove andi da ma zompano e mira bene boom preso e la bloccata dai no l'avevo bloccata dai su avevo premuto questo di pulsante da doveva bloccare vista raggi x ah ok che figata posso scegliere una volta che sono morto eccolo uno adesso non c'ho la palla ah che era mignotta muori ci godo che assist lo stordino un po' e quell'altro l'ha buttato giù eh il problema è che non c'ho nessuna palla pure questo ah 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 no 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 cacci vostra e chi ve vuole male mi sa che son morto solo io eh rimbalzo muta palla non so che vuol dire su 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 guardali guardali questi guardali dai che ti colpisco eccolo l'ha bloccata ah ah l'ho bloccata e non è che sfiga aiuto mi hanno intrappolato le polizie stifose la polizia più che altro le polizie che devi pulire dai ma che ne è no il laser schifoso mi ha trasformato di nuovo eh però basta che non me buttavi giù perchè ero bloccato vai oh una kill signori no me l'hanno rubata me l'hanno inculata decisamente dai su chi è chi è chi è chi è chi è chi è eccolo boom non l'ho colpito o l'ho colpito non lo so nemmeno io round vinto meno male meno male da volo sporco lo fanno sempre i miei compagni di squadra mai sporcarsi le mani qui comunque 10 a 3 decisamente asfaltati bene 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 allora cosa possiamo uscire poteri curativi i suoi cori guariscono col passare del tempo ma ovvio me la prendo io subito eh tanto me colpiscono sempre solo a me che mi conviene perfetto ci siamo direi di trovare le pale perchè non mettono gli indicatori per trovare queste palle che è sempre un'impresa per trovarle sinceramente io non le trovo mai che pare il laser e baffanculo e baffanculo eccola eh ma li coglioni proprio li coglioni dai me c'è stava a cura la vita no non posso uscire più i porti regolativi ma che schifo la forza niente doppio salto dai ho sprecato i porti regolativi così che schifo che sono ovviamente blocca c'ha gli occhi a 360 gradi questo non so come abbia fatto però ok dove stanno dove stanno dove stanno sti mini mei oh fermi i boni ovvio basta con sti laser non mi lanciare anzi lanciami adesso vai vai fallo per la patria bravo bravissimo beh adesso ci stanno più player che no più palle che player non dico la verità oh 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 la polizia ti è beccare questo ah ah ci godo vieni qua vieni qua dove scappi no l'ha preso lui merda ah chi è chi è chi è no l'ha trasformato in una palla dove è andato io prendo questa sai che vi dico ti è beccare no che culo di merda vai presa al volo vai pom preso incredibile però mi hanno colpito oh oh che culo doppio salto incredibile ma bello eh mi hanno colpito però eh non è successo niente ho solo perso poteri curativi niente io ragazzi la mia caratteristica nei giochi come sapete essere veramente una pippa essere cariato ecco sì però mi colpiscono in quale distanza lo vorrei sapere pure io eccola eccolo Saturno siete stronzi siete bastardi perfetto vinto proprio a culo a culo mamma mia io non ho fatto niente nemmeno che una kill boh non lo so oh among us ma che cazzo ah tra l'altro ho un emoticon di among us non so perché abbia among us questo gioco però ok siamo a una stretta collaborazione dopo vi faccio vedere allora annulliamo subito andiamo direttamente alla prossima partita due no non 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 abbandona la partita allora stavo dicendo adesso andiamo a fare due versus due versus due versus due ma che casino può essere c'è un duo è una squadra fatta da duo penso ma scopriamo ci siamo eccoci in questa oh che figo c'è pure il trenino il trenino super veloce nell'area asiatica quello come si chiama super jet come si chiama non mi ricordo e vabbè comunque come pensavo ecco qua le due squadre no le due le quattro squadre noi siamo team verde giordi più giordi più o giordi blu boh vabbè bene 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 scopriamo cosa dobbiamo fare vinci tre zone di pericolo per aggiudicarti la partita ma ah si arriva a 150 ma questi 150 punti come si raggiungono non lo so ragazzi ma le palle io non le trovo cioè è possibile che sfiga qui ci vorrebbe una riunione ecco l'emoticon diamo un gas no ce l'ha pure lui figata allora oh merda io non ho le palle dove si trova oh l'ho chiamata così fortuna che l'ho chiamata beh i nemici non li trovo boom porcazzo ma porca troia eliminato ci godo tantissimo tantissimo ci godo io oh non vedi boom no l'ha bloccata tacci tua l'avevo bloccata io oh merda ma che è fortuna dio mio ah no dio della merda no bastardo fallo fuori fallo fuori beh abbiamo vinto no ma noi siamo a squadra verde niente secondi ha perso giordi blue poi non so se era il mio compagno di squadra io non ci ho fatto caso no quello è morto ma dio mio le pippe sempre a noi eh le pippe sempre a noi adesso la nostra squadra è eliminata colpito da un treno questo sta fermo e questo vince perché sta fermo beato lui che bello di ragazzi beato lui ah comunque vedete toglie tipo un quarto meno di un quarto la un ottavo tipo la zona che si restringe la squadra gialla proprio spettacolare ci sta asfaltando leggermente bene è iniziato il match che fa sto coglione ma sei un coglione ma dio mio dio mio sei un coglione sei un coglione te lo devo dire vai che è ho lanciato dove cazzo è andato quello e va fanculo boom questa volta l'ho preso stronzo di merda e va fanculo eh te lo devo dire te lo devo proprio mandare eh nove e die niente siamo ultimi ma che schifo undici mi sta facendo no è morto il nostro compagnio di squadra proprio utile come una zanzara d'estate non serve proprio un cazzo niente abbiamo perso siamo arrivati ultimi anzi terzi insieme alla squadra rosa però veramente è un peccato ma che è sto gioco c'è una zona che si restringe è troppo possiamo dire quasi complicato ci devi avere mille occhi perché te colpiscono a destra a sinistra dietro avanti è un casino sapete che vi dico concludiamo con un game classico vai team KO e let's go 3 vs 3 non ci sono poteri non c'è niente quindi è frutto della nostra bravura vediamo che succede scommetto che quelli 3 stanno in squadra e noi saremo gli sfigati quanto scommettete guarda eh c'hanno tutte le skin uguali il team è lo stesso quindi ragazzi sfigati guarda eh guarda quanto siamo sfigati oh fa la bomba sfigati come non mai e te pareva e te pareva ah no mi sa un team no uno sta in squadra nostra non lo so che è successo boh che cazzo ne so la palla me la pio io bene 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 riuniamoci stronzi chi è chi è e tacci tua sto a mirare io boom ti piace chi è mortacci tua l'ha bloccata e tacci tua ma lordo l'ha bloccata la mia e pensavo che l'avevo eliminato questa è sfiga alle dove siete pronte a giocare ok il prossimo video sarà sui football già ve lo dico un pezzo camuffato allora 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 facciamo corpo a corpo peccato che non succede niente oh che bellissimi abbinati oh merda ma sta palla bomba dove sta affanculo dai lo sapevo la bloccava eh l'ho bloccata pure io stavolta boom ah ci godo dobbiamo colpire quella bomba eh definitivamente se la so presa nel culo si ok ma tiè oddio santo dio niente fanno lo stronzo come vuole giocare affanculo eh no era pure lenta la potevo prendere oddio tre a quattro oh è dura sto match è durissima ma che è il campo ghiacciato ma dove si trovano ste bombe senti vai lanciami lanciami fammi diventare una bomba ecco il cazzo lanciami lanciami ma sei un coglione ma sei un coglione beccati sta palla ho buttato fuori sto stronzo dai ma come me fanno a colpi così veloce a parte non è che caricano tutto tutto al massimo potrei pure io buttare subito la palla appena ce l'ho il problema è trovare il bersaglio chi è beccati dai ma la parano vedete che stronzo che sono ecco dai è piaciuta la sorpresa la sorpresina ma dio santo c'aveva il pallone non si può bloccare il pallone con un altro pallone cioè è possibile 7 a 9 no ci hanno ascoltato ecco e tre punti ci dobbiamo rifare al prossimo round perché se non vinciamo al prossimo round siamo costretti a dare la vittoria a loro quindi vediamo un po' no mi sa che ragà insieme quello lì tutto assieme sta tutto assieme quindi noi siamo i più sfigati i più scarsi perché ci sono io in squadra eh non perché sono scarsi loro oppure tutte e due chi lo sa oh colpito bene 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 le palle non si trovano sì ma poco dai ma è chiuso lo fa così aha volevi stronzone oh cazzo vai stronzo ma se volete possiamo restare così tutto il giorno intanto qui non ci vengono ah ovviamente mi colpiscono mi colpiscono tacci tua tacci tua però una vita me lo butta da giù oh ma la palla bomba non esiste dovremo noi trasformarci nelle bombe se magari vai lanciami fammi diventare una bomba lanciami eh sei un coglione sei un coglione definitivamente sei autoeliminato stronzo ah oh schivata ah ecco la bomba la palla bomba mi colpiscono mi colpiscono così a me velocissimi però ti devo dire ti devo dire che brutta la situa non è perché noi siamo assai a due stranamente ah bastardo ovviamente l'ho spiegato si fa sentire non mi mira a me la sorpresina ci ho trovato la sorpresina ci voleva proprio una bella sorpresina per farmi passare proprio la voglia di giocare 7 a 4 guarda come si recuperano eh ci recuperano veramente male questi si però guarda 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 che roba ma non si può giocare così non si può eh che cazzo UFO ma porca troia oh avete rotto il cazzo però sempre a me mi sarà a rompere le palle non ve vedo eh come faccio a bloccare la palla se non ve vedo cebo e porca troia niente bloccata passano in testa loro ah vattene vaffanculo non mi prenderete mai stronzi una palla però una palla una palla ah ho preso si ci godo tantissimo boom no merda ho mirato male no figlio della merda ah non mi prenderete mai non mi prenderete mai ah che sfiga che sfiga che c'hanno l'ho schivata tantissimo bene veramente non ci credo eh mi hanno colpito bastardi dai un punto per un punto cioè manovillato più volte a me infatti è colpa mia però che che ve lo dì se poteva pareggiare insomma cioè il caso vuole che devo mandare affanculo proprio questo gioco e vabbè finiamo questo video su knockout city la pala belenata un nuovo video questa volta un po' rivisitato abbiamo fatto nuove modalità insomma l'importante è che ci siamo divertiti pure se abbiamo perso le partite su tre ovviamente la prima partita cariata vorrei proprio specificare sottolineare però va bene lo stesso finiamo questo video così e beh ragazzi questo video su knockout city su questa palla belenata con questo gameplay nuovo benissimo gameplay può fare così spero vi sia piaciuto lasciate like se è per questo chi non è iscritto iscrivetevi subito mi raccomando i social li trovate qua sotto in descrizione andatemi a seguire anche lì se volete oppure trovate la bella scheda qui accanto io vi saluto vi ringrazio per aver seguito tutto questo video e ciao